Cosa potete ricevere tantissimi XP? Se anche tu puoi ricevere 5 secondi per andare a lasciare un bellissimo like Quindi 5, 4, 3, 2, 1 e vai a lasciare un bellissimo like In questo momento si puoi ricevere anche tantissimi XP anche tu Mi raccomando scioppa il passaggio con il codice codingamer52 e supportami con questo cod In questo modo farai altri video del genere e mi supporterai Ma ora andiamo qui a mettere il codice isola che sarebbe esattamente 6, 2, 5, 7, 9, 4, 1, 7, 0, 5, 1, 6 E la versione è l'81 Questa qua appunto la mappa, la partita non deve essere pubblica ma privata perché se no il glitch non andrà Ok perfetto quelle cose che dobbiamo fare è andascendere quindi dare Eh vabbè ok mi doveva portare direttamente qua Quindi ci troviamo in questo punto verso questa direzione di Wea Ponsore per essere qua si Andiamo a costruire appunto delle scale fino ad arrivare qua sopra In questo punto andiamo a fare un balletto e ci muoviamo Ora qui dobbiamo prendere il rampino dobbiamo aspettare 600 secondi quindi ci vediamo tra poco Ok perfetto dobbiamo andare a mettere la pasta che sarebbe 7 poi 3 poi qua 7 Ok adesso ne premiamo e comprimiamo l'XP button Ok ora andiamo a premere Start FK XP così ci trovate XP a FK e ora che siamo qua Quello dobbiamo andare a fare è andare verso questa direzione qui troveremo un tasto Andiamo a premere ora saliamo esattamente qui solo perché qui dovremmo trovare questo XP chiamato Admin XP Allora qua l'XP Leach si interrompe perché con questo semplice pulsante non mi aveva dato XP Ma aspettate un attimo la mappa e sarà calibrata appunto oggi è il giorno successivo quando avevo registrato questa clip E alla fine mi ha dato ben 55.000 XP quindi premete comunque questo pulsante e girate per questa mappa Perché trovate diversi pulsanti vi dico raga non sono pulsanti nemmeno complicate da trovare Quindi basta che girate un pochino trovate tutti questi pulsanti e livellerete Grazie a tutti